Elena Kowalska è conterranea di Giovanni Paolo II che l'ha elevata agli onori degli altari nell'anno 2000. Era nata a Djokovic, nel distretto di Turek, provincia di Lodz, il 25 agosto 1905. Le difficili condizioni economiche e sociali provocate dalla Prima Guerra Mondiale, che avevano messo in ginocchio molte famiglie polacche, compresa la sua, non consentirono a Elena, che pure era di intelligenza vivace, di andare oltre le prime tre classi della scuola elementare. Per contribuire a far quadrare in qualche modo il bilancio familiare andò a lavorare come domestica in una casa di buona famiglia, ma mentre lavava piatti e tirava a cera i lindi pavimenti dei suoi signori, pensava ad altro. Nel suo cuore era germogliato il desiderio di abbracciare la vita religiosa, non certo per sottrarsi alla fatica del lavoro, ma per vivere in modo più profondo e radicale la vocazione cristiana. Incontrò subito l'opposizione dei genitori, che con la sua entrata in convento avrebbero perso un'indispensabile fonte di guadagno. La risolutezza di Elena ebbe però la meglio sull'opposizione dei genitori e nel 1924 poteva chiedere finalmente di essere accolta nella congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia. Era consuetudine che ogni aspirante alla vita religiosa portasse con sé, nel momento dell'ammissione, una congrua dote, perché i conventi, essendo poveri, non erano in grado di provvedere al corredo delle aspiranti. Ma neppure la famiglia di Elena poteva farlo, per cui la giovane dovette lavorare sodo ancora un anno per mettere insieme almeno l'indispensabile. Non le venne invece chiesta la dote vera e propria, che avrebbe richiesto ben più di un anno di lavoro. Aveva vent'anni quando venne ammessa al postulantato e poi, 1926, al noviziato come suora conversa, addetta cioè al servizio della comunità. Come avviene in altri ordini o congregazioni religiose, con l'occasione cambiò il nome di Elena con quello di Maria Faustina. Era un modo per segnare il distacco dalla vita precedente e l'inizio di un nuovo modo di stare con il Signore e con gli altri. Due anni dopo emise i voti temporanei e nel 1933, quelli definitivi, nel suggestivo rito della professione perpetua. Per tredici anni, suor Faustina lavorò in quasi tutte le case della provincia, che erano allora dieci, occupandosi dei mestieri più umili, la cucina, il giardino e la portineria. Eseguiva sempre con molta fedeltà quanto richiestole e con gioia, illuminando ogni atto con la luce della sua spiritualità, molto intensa, costellata da slanci mistici, dei quali erano a conoscenza solo i suoi direttori spirituali e le superiore. Nel 1934, obbedendo all'indicazione del suo direttore spirituale, cominciò a scrivere un diario personale che intitolò La Divina Misericordia nell'Anima Mia e che è un resoconto particolareggiato di rivelazioni e di esperienze mistiche. Nel 1935, te una rivelazione privata da Gesù, nella quale le avrebbe richiesto una particolare forma di preghiera, detta Coroncina alla Divina Misericordia. Secondo Suor Faustina, particolari grazie sarebbero state concesse a chi avrebbe recitato questa preghiera. La mia misericordia avvolgerà in vita, e specialmente nell'ora della morte, le anime che reciteranno questa coroncina. Per la recita di questa coroncina mi piace concedere tutto ciò che mi chiederanno. I sacerdoti la consiglieranno ai peccatori come ultima tavola di salvezza. Anche se si trattasse del peccatore più incallito se recita questa coroncina una volta sola, otterrà la grazia della mia infinita misericordia. Quando vicino ad un agonizzante viene recitata questa coroncina, si placa l'ira di Dio e l'imperscrutabile misericordia avvolge l'anima. Preghiera per ottenere grazie per intercessione di Santa Faustina O Gesù, che hai reso Santa Faustina una grande devota della tua immensa misericordia, concedimi per sua intercessione e secondo la tua santissima volontà, la grazia per la quale ti prego. Essendo peccatore, non sono degno della tua misericordia. Ti chiedo perciò, per lo spirito di dedizione e di sacrificio di Suor Faustina e per la sua intercessione, di esaudire le preghiere che fiduciosamente ti presento.